La nostra voce registrata è molto diversa da come noi la percepiamo rispetto a quando ci ascoltiamo nella vita di tutti i giorni e c'è un motivo ben preciso per cui la nostra voce ci appare diversa e lo è, è diversa, però dobbiamo anche capire che questa voce che noi ascoltiamo dall'altoparlante di un registratore, un cellulare, eccetera, questa nostra voce che noi ascoltiamo è la nostra voce microfonica, io la chiamo così, che è la traduzione in un segnale elettrico della nostra voce Adesso, perché in questo momento voi state ascoltando la mia voce microfonica? Perché passa attraverso il microfono Questo è un microfono professionale, però se io lo togliessi comunque ci sarebbe il microfono del computer che non è un microfono professionale, però comunque sentireste la mia voce tradotta e incanalata in un segnale elettrico Quindi non state ascoltando la mia voce così come la sentireste da vicino, così come mi state vedendo ma non mi conoscete da vicino Quindi avete una sensazione di come io sono attraverso il video Se mi conoscete da vicino scoprirete che sono più alto, che sono più basso, che ho gli occhi marroni o gli occhi chiari Quindi avrete una sensazione, un impatto diverso perché mi vedete da vicino e mi vedete di persona Non c'è uno schermo, non c'è un medium Invece quando voi registrate e vi riascoltate c'è sempre un medium in mezzo E cioè il mezzo di lo strumento attraverso il quale voi vi riascoltate è uno strumento di riproduzione esterno Questo significa che voi avete registrato la vostra voce che è stata captata da un qualcosa che non sono le vostre orecchie Non è il vostro udito ma è uno strumento, appunto un'apparecchiatura elettrica, elettronica Un qualcosa che cattura il suono della vostra voce e lo traduce in un segnale elettrico Che non è altro che una serie, una componente di numeri Avete mai visto il grafico della vostra voce quando vi registrate in alcuni programmi, anche home studio? È molto facile, vedete che la vostra voce quando parlate disegna delle linee Ok? Quella è la vostra voce che viene tradotta per un segnale elettrico Ok? Quindi già non è la vostra voce che ascoltate da lì dentro E in più succede un fenomeno molto molto particolare che adesso molto complesso Che io personalmente ho studiato e che cercherò di sintetizzarvi il più possibile La prima persona che si è chiesto perché la mia voce è così diversa rispetto a come la sento nella vita di tutti i giorni Dovete sapere che sono stato proprio io Io ho cominciato a registrarmi quando avevo l'età di 8-9 anni Perché io avevo questo registratore che era di mia nonna Ma perché era di mia donna? Perché mia nonna semplicemente era un tipo un po' Era moderna, una donna moderna e quindi le piaceva ascoltare la musica con i nastri, con le cassette Però la cosa singolare è che questo registratore era non solo un player Ma era anche appunto un registratore Cioè tu ci potevi anche registrare, cosa molto rara Quando io scoprì questa cosa, siccome mi piacevano molto i cartoni animati E ascoltavo tantissimo, vabbè ero innamorato dei cartoni animati di Walt Disney E soprattutto compravo Topolino ogni settimana Io le prime cose che ho cominciato a fare fu registrare Le facevo Paperino, Paperog, Zio Paperone, Qui, Quo, Qua E li facevo con questo registratore Quando mi registravo, ascoltavo, cioè avevo 8 anni Sentivo però che la mia voce era diversa Era una voce più nasale Sentivo tutti i suoni che comunque Se ti avvicinavi di più al microfono sentivi Tutta una serie di cose che invece non potevi sentire Quando ascolti la tua voce in maniera naturale Perché non c'hai quella stessa sensibilità E le frequenze che tu ascolti sono simili ma anche differenti Allora attenzione, cosa molto importante Ricordatevi questo Quando voi ascoltate la vostra voce Quando parlate Ascoltate la vostra voce in 3D Anzi, io dico che la ascoltate in 4D Cioè in quattro dimensioni E vi dico quali sono Immaginate di essere all'interno di una sala cinematografica Avete, avrete visto qualche film in una sala 3D Vi sarà capitato di andare, che ne so, a luci cinema C'è la sala iSense Vi sarà capitato, adesso c'è di nuovo Avatar Nelle sale, di vedere il 3D di Avatar E di indossare gli occhialini 3D Ecco, esattamente Ascoltare la vostra voce dal di dentro È come vedere Avatar con gli occhialini 3D E quindi come vivere proprio da vicino Qual è Vivere questa esperienza tridimensionale Questa esperienza immersiva nella vostra voce Questo perché noi quando parliamo Ascoltiamo la nostra voce direttamente dall'interno La nostra voce risuona all'interno del nostro corpo Il nostro corpo è un grande strumento musicale È una grande cassa armonica Perché come nasce la voce? La voce nasce Come nasce la voce? Dalla vibrazione Le corde vocali Giusto? Ok Cosa fa vibrare le corde vocali però? L'aria Il diaframma Il diaframma è l'organo che ci serve per emettere Di spingere il respiro Quindi perciò le corde vocali Vibrano attraverso il passaggio dell'aria Quindi possiamo dire che questo strumento musicale È psia a corde Perché questi lembi tendinei Che sono paralleli tra di loro E che si chiudono anche un po' a cerniera Quando vibrano all'unisono Questi lembi tendinei sembrano delle corde Come le corde di una chitarra Ma noi non possiamo strimpellare queste corde Ma possiamo soltanto ricevere e ascoltare la loro vibrazione Che è frutto del movimento prodotto dall'aria Che passa attraverso la laringe Quindi la vibrazione delle corde vocali È frutto quindi di questa sorta di strumento affiato Questo strumento affiato Ha una grande cassa di risonanza Che è tutto il nostro corpo Perché la voce risuona dappertutto Risuona nella gabbia toracica Risuona attraverso le nostre arti Attraverso i nostri organi Quindi tutto ciò che fa parte del nostro Tutto il nostro organismo È una grande cassa armonica E quindi ciascuno di noi ha la sua voce Sia perché geneticamente ha una voce differente dagli altri Quindi ha una sua impronta Un suo timbro Ma dipende anche da come questa voce risuona all'interno Ora noi siamo abituati ad ascoltare questo suono Sempre dall'interno E quindi abbiamo una sensazione completamente avvolgente Immersiva della nostra voce Ed è come se ci trovassimo in una sala I sense, 3D, I max Con gli occhialini eccetera Quindi siamo immersi in questi suoni E abbiamo quindi tre dimensioni Ma dobbiamo aggiungerne anche un'altra La quarta Che è la dimensione emozionale Perché noi attraverso l'ascolto della nostra voce Possiamo anche decifrare E anche mettere in scena Quali sono le nostre emozioni Quando noi parliamo Se siamo allegri La nostra voce sarà più allegra Più briosa Se siamo un po' tristi Un po' giù di morale La nostra voce sarà più bassa Sarà più grigia Più monotona Quindi questo che cosa significa? Che dobbiamo in qualche modo Renderci conto del fatto Che attraverso la nostra voce Noi trasmettiamo Comunichiamo anche le nostre emozioni E noi ci emozioniamo Dall'interno E quando usiamo la nostra voce Comunichiamo all'esterno queste emozioni Ora tutti questi elementi Quindi la tridimensionalità dell'ascolto Più l'aspetto emozionale Rappresentano ben quattro dimensioni Quando noi parliamo E gli altri ci ascoltano E qua Veniamo al problema di cui parlavamo prima Ma come ci sentono gli altri? Ma gli altri ci dicono di abbassare la voce Se è troppo alta Oppure ci dicono di alzare la voce Se è troppo bassa Quindi però noi non ci rendiamo conto Se è troppo alto E troppo bassa Ma sono gli altri che ce lo dicono Ma gli altri non siamo noi Perché gli altri hanno dei loro parametri soggettivi Quindi innanzitutto Quando la vostra voce Viene ascoltata dagli altri Perde già Due dimensioni importanti Perché perde Si perde quell'effetto 3D E quindi perciò Se prima era un 3D Adesso è un 2D Quindi le persone hanno perso Quella tridimensionalità Che voi avete Perché voi sentite risuonare La voce all'interno del vostro corpo Ma loro sentono soltanto Ciò che voi emettete Quindi sentono soltanto Questo suono dall'esterno Che arriva a loro Ora la domanda è Ma queste persone Ci sentono? E come sentono? Sentono bene? Hanno una sensibilità? Il loro orecchio funzionano tutte e due? C'è chi ha l'apparecchio? C'è chi ci sente di più di qua? Chi ci sente più di là? Cosa c'è in sottofondo? C'è la musica? C'è il brusio della folla? C'è l'autostrada? C'è il traffico? Quindi quello che noi Stiamo comunicando agli altri È molto soggettivo Cioè Noi Tiriamo fuori la nostra voce Quella che ascoltano gli altri È un suono esterno Che è diverso dal nostro Quindi questo passaggio È importante che voi lo capiate Perché è il passaggio più importante Che voi dovete fare Nel comprendere Che la percezione della vostra voce Sarà sempre e comunque soggettiva Perché voi non state Nella testa delle persone E nelle loro orecchie Voi avete soltanto Le vostre orecchie Quindi partite dal presupposto Che quello che ascolteranno gli altri Non sarà mai quello che voi ascoltate Dall'interno Però adesso Arriviamo ad un punto notale Che è quello Che è molto importante Ai fini del nostro percorso Perché è tutto Perché è su questo Che si basa poi il mio metodo Amo la mia voce Torniamo cioè a parlare Di quello che accade Quando noi registriamo la nostra voce Adesso è molto facile Registrare la nostra voce Perché possiamo registrarla Con il registratore Quello del cellulare Ci sono le note vocali Ma soprattutto lo facciamo sempre Quando comunichiamo attraverso Whatsapp Quando mandiamo i messaggi vocali su Whatsapp C'è chi li riascolta e chi no Io vi consiglio sempre Di riascoltare questi messaggi Soprattutto se non vi piace la vostra voce Perché in quel momento Voi state ascoltando una voce Che a voi non piace O che non riconoscete tale Giustamente Perché è una voce Che io definisco microfonica Cos'è successo? Avete perso un'altra dimensione Prima erano quattro Poi sono diventate due Adesso è una sola Perché il vostro segnale La vostra voce È diventato un segnale sonoro Univoco Sì magari avete Il microfono Che capta tutte le frequenze Del mondo possibile Ma non sarà mai un orecchio umano Sarà un ottimo microfono Ma non avrà tutte le frequenze Che ha l'orecchio umano Potrete avere Delle casse stereo Ultra fedeli Ma non saranno mai Come l'orecchio Di un'altra persona Quindi In quel momento La vostra voce Viene captata Da un apparecchio esterno Che trasforma La vostra voce In un segnale sonoro E perde tutte Quelle dimensioni Che voi sentite Dall'interno Quindi perde Questa tridimensionalità Ma viene captata All'interno Di questo Imbuto Elettronico Poi sì avrete Magari anche le cuffie Sentite stereo Non è la stessa cosa Che sentire La vostra voce Dall'interno Quindi comunque Quelle quattro dimensioni Che avete all'inizio Le avete perse Quindi questo Cosa accade Cosa significa Che è evidente Che la vostra voce Che ascoltate È diversa Da quella che voi Sentite Dall'interno Perché Non è un'altra voce Ma è La manifestazione Sonora Anzi Una rappresentazione Sonora Di quello Che è il suono Della vostra voce È una Trasduzione Elettrica Quindi Perciò Io sostengo Che i corsi Di dizione Online Siano molto Molto Più efficaci Come li faccio io Rispetto ai corsi In presenza Perché Mi sono accorto Che quando Anche per Per la causa Della pandemia Tutto si è Spostato online Questo Dal punto Di vista Della dizione Del mio lavoro È stato A mio avviso Un vantaggio Perché ho scoperto Che quando voi Parlate con me Attraverso il microfono Io ascolto Direttamente La vostra voce Microfonica Perché sento Direttamente La vostra voce Che passa Attraverso questo medium Perché è importante Questo passaggio Perché è meglio Che io Ascolti La vostra voce Registrata Piuttosto che La vostra voce Dal vivo Perché se io Ascolto la vostra Voce dal vivo Divento come una Di quelle persone Che ha una percezione Soggettiva Di quello che voi Dite Quindi io ci posso Sentire bene Male Posso essere Distratto Oppure posso Essere attento Posso sentire In sottofondo Altre cose Riceverò Percepirò La vostra voce In maniera Soggettiva Invece La voce Microfonica È un qualcosa Di assolutamente Oggettivo Perché è una cosa Matematica È un algoritmo La voce Microfonica È la traduzione Proprio scientificamente Parlando di Un segnale sonoro Che diventa Un segnale Elettrico Quindi è un qualcosa Di oggettivo E che è uguale Per tutti Quando ci registriamo La nostra voce Che non ci piace Invece È la nostra voce Oggettiva Cioè È la voce Sulla quale Dobbiamo basarci Perché Io e voi Lavoreremo Su questa voce Microfonica Perché è l'unica voce Possibile Sulla quale Noi possiamo Lavorare insieme D'accordo Perché è l'unica voce Sulla quale Noi possiamo Esprimere Insieme dei pareri Perché Come non la Come voi Non la riconoscete Vostra Come voi La sentite strana Voi la sentite strana Perché siete abituati Ad ascoltarla Dall'interno Per gli altri Invece La vostra voce Non è strana È semplicemente Una voce registrata Ma noi dobbiamo Basarci Su questa voce Registrata Perché è su questa Che possiamo Lavorare Perché la fermiamo Perché la La cristallizziamo La frizziamo In una dimensione Oggettiva Quindi è lì Possiamo andare avanti Possiamo andare indietro Possiamo riascoltarlo Possiamo fermarci È lì Se invece Questo lavoro Lo facciamo Senza l'uso Del microfono Se lo facciamo Senza registrarci Sono tutte parole Al vento Sono tutti suoni Che però nessuno capta E che non possiamo Analizzare Ed è per questo Che fare I corsi Con me Online Con la modalità Del microfono E del riascolto Porta dei risultati Ed è questa La grande differenza Rispetto agli altri Corsi di dizione Dove si chiacchiera Si imparano le regole Della fonetica Ma poi Non si capisce Qual è il meccanismo Perché se voi non capite E non sapete Perché non è copa vostra È un qualcosa Che io Sono riuscito A scoprire Basandomi Sulle mie esperienze Sui miei studi Se non Siamo consapevoli Del fatto Che la nostra voce Registrata È scientificamente Un'altra voce Rispetto alla nostra Dobbiamo prima Accettare questo E basare Tutto ciò Tutto il nostro lavoro Sulla nostra voce Registrata L'unico riferimento Sonoro Sarà la nostra Voce registrata Quindi Smettiamo di pensare A quello che Pensano gli altri O ci dicono Di alzare Abbassare la voce Smettiamola di pensare A tutto ciò Che ha A che vedere Con un mondo Che non possiamo Né controllare Né ascoltare Abbiamo Bisogno Di Trovare Un qualcosa Di oggettivo Che è la nostra voce Registrata Quindi dobbiamo trovare La nostra voce Microfonica Ed è il primo passo Da fare Quando noi Impariamo a registrarci E riascoltarci A quel punto Cominciamo ad avere Una maggiore consapevolezza Di questo suono Che all'inizio Non ci piace E ripeto È normale Che non ci piaccia Perché non è la nostra voce Che siamo abituati Ad ascoltare sempre Perché non è la nostra voce Che risuona Dall'interno È una voce Che è stata Transcodificata In un segnale Elettrico Quindi è un qualcosa Che a noi non appartiene È come se fosse Un clone Come se fosse Un avatar Torniamo Nell'esempio Cos'è l'avatar Nel film È la persona Che si Catapulta In un corpo Estraneo In un altro corpo E gli stessi navi Gli stessi abitanti Di Pandora Quando vedono avatar Dicono che è Il morto vivente Perché è un qualcosa Che loro riconoscono Essere artificiale La nostra voce artificiale Deve diventare per noi La nostra vera voce Perché è la voce Sulla quale Noi ci baseremo D'accordo? Domande?